Ancora? Ma prima Luca si è passato due dita No, no, è entrata nella... non l'avevi vista No, 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 è entrata nella scia del motore, non li ha presi No, non li ha preso Un vergo No no... No no c'è, c'è Sì 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 C'è, c'è, c'è Un pescato costumbrato Vero? Non so cosa vuol dire, capire così? Ahah Allora, andiamo a prenderle e poi gliela chiedo un pochino Marco Sì Luca Andiamo a prenderle, ma dopo gliela chiedo un po' eh Sì Come stiamo? Andiamo a prenderle? Va, ora attenta a recoglierle, Carlos, che va a poreri Tiro qua, Marco Tiro qua, Marco Tiro qua, Marco Tiro qua, Marco Ok Luca Sui lunghi Chiuso un pochino Marco Chiuso un pelino Quanto è caro questo qua Tanto è caro Vedi un pelino Vedi un pochino Lo zacco se sta prendendo la cosa Luca Sì sì Cerca di togliere i pompati un pochino più corso 90 gradi eh 10 metri 20 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 metri